Siamo andati in vacanza in Messico e abbiamo scoperto questa arte che si chiama huichol che fanno, addobbano queste cose con le perline diciamo e mi ha fatto subito molta curiosità perché usano molti dei miei marchi, diciamo, dei miei simboli come il sole e la luna, la tartaruga eccetera eccetera quindi abbiamo cercato di ricreare sul casco queste perline con cui loro danno il colore, danno la forma a questi oggetti e farlo in chiave Valentino Rossi ecco quindi secondo me è venuto molto bene è stato molto bravo Aldo Drudi ma soprattutto questa volta Davide che si è messo lì a fare le perline una per una con il pennellino e quindi il casco è diventato, si può dire, un'opera d'arte e qualcosa di nuovo che non si era mai visto ecco Yeah!